27 minuti di gioco, sempre 0-0 qui al MAPE Stadium tra Sassuolo e Lazio, palla per tre soldi tre soldi, sbaglia tutto, attenzione, Luis Alberto, ancora gioco a regolare ecco, attenzione, Castellano, sbaglia per Felipe di Felipe Anderson! Lazio in vantaggio, azione repentina, ancora Luis Alberto che ruba il pallone a tre soldi e poi si vola Castellanos che serve con grandissima intelligenza a Felipe Anderson che stavolta non può fallire e recupera quello che aveva sbagliato in precedenza il PIB, il giocatore brasiliano, Lazio che passa in vantaggio direi in maniera strameritata alla quinta occasione, ripetiamo, Luis Alberto che recupera il pallone tre soldi che non lo riesce a conquistare, poi Castellanos serve per Felipe Anderson un comodo assist che il brasiliano mette alle spalle di Consigli quindi quando siamo giunti al trentesimo minuto di gioco qui al MAPE Stadium Sassuolo 0, Lazio 1, ha segnato Felipe Anderson! Fallo laterale però a favore della Lazio battuto Castellanos, non la riesce ad agganciare poi va Rovella e poi il pallone arriva dalle parti di Tojan che praticamente la manda in tush dalla parte opposta dello stadio Lazio che può riprendere con il fallo laterale già battuto, pallone tra i piedi di Provedel quindi Rovella Gendusi Lazzari Palla per Felipe Anderson, ancora per Lazzari All'indietro Patrick, attenzione la palla lunga cercare Castellanos poi tre soldi sbaglia ancora Castellanos la stoppa palla per Felipe può puntare l'area di rigore dall'esterno ancora Felipe, prova il tunnel sbaglia ancora su Rasic poi ancora il cross, la palla svila attenzione, lui Alberto Lazio 2, sassuolo 0 ancora una frittata da parte dei difensori del sassuolo Lazio che raddoppia in maniera meritata ancora Felipe Anderson che va a lavorare un pallone sulla destra poi lo butta in mezzo con un cross teso il sassuolo con due difensori praticamente fa una carambola che sembra un flipper ed alla fine il pallone arriva comodo comodo dalle parti di Luis Alberto che segna il raddoppio quindi quando siamo giunti al 34esimo minuto di gioco Lazio 2, sassuolo 0 ha segnato il mago Luis Alberto 94esimo minuto sempre 2 a 0 per Lazio un minuto alla fine del recupero la palla che rimane in mezzo all'area di rigore ancora però il sassuolo torsved in tiro palla in tribuna e credo che si spengano qui le opportunità e le possibilità di monta del sassuolo mancano 30 secondi siamo avanti di due gol chiama tutti in avanti Alessio Romagnoli chiama tutti in avanti Ivan Provedel chiamano tutti in avanti anche i tifosi della Lazio che già da 5 minuti stanno esibendo sciarpe e bandiere e vessilli intonando i cori della prima squadra della capitale il rinvio lungo di Ivan Provedel è il triplice fischio di Di Bello e Lazio che porta a casa i tre punti in maniera strameritata qui alla Mappei Stadium finisce con la porta in battuta sassuolo 0, Lazio 2 partita più che bugiarda perché la Lazio avrebbe sicuramente strameritato un vantaggio sicuramente più ampio le reti tutte nel primo tempo di Felipe Anderson e Luis Alberto e anche oggi come sempre in questi casi Forza Lazio!